In settimana avete lanciato l'ultimatum, il direttore Corozieri insieme con il presidente Esposito a due giorni dalla scadenza di questo ultimatum, come stanno le cose? Oggi è ancora come erano prima, non si muove niente, la vecchia società non ha dato segnali quindi adesso aspettiamo giovedì, vediamo insieme al presidente Esposito cosa decideremo. Quale sarebbe lo scenario a questo punto più ipotizzabile? No, per adesso siamo fermi sul punto che arriviamo giovedì, poi si deciderà cosa fare. È probabile che questo aspetto abbia un po' inciso in questo secondo tempo por emissivo? Assolutamente no, perché io ho sempre detto, alla squadra ho sempre parlato e ho sempre detto chi non ha piacere o non ha voglia di indossare questa maglia, perché chi mette questa maglia la maglia va onorata noi siamo pronti a dare gli svingoli a tutti quanti, ma l'ho detto un mese e mezzo fa quindi loro hanno sposato la causa, è giusto che vanno in campo e danno l'animo per questa maglia chi non sta bene, la porta è aperta, arriveranno altri giocatori e quindi io sono stato chiaro già un mese e mezzo fa, quindi a oggi non posso vedere una squadra che perde, prende quattro gol nonostante l'espulsione, ripeto che sicuramente la partita può darsi che prendeva un'altra piega anche se faceva gol Nassi, facciamo il 2-0, era un altro discorso però io non posso vedere una squadra perdere così su disattenzione difensiva specialmente il secondo gol di Broso, 7 persone del Giuliano Maferme e lui da solo quindi questa è una cosa mentale, che non va assolutamente a incidere sulla questione societaria perché io sono stato chiaro, ripeto e ribadisco, chi non gli sta bene di indossare e onorare questa maglia c'è la porta aperta e c'è lo svingolo aperto, chiunque esso sia